La diga di Montedoglio si conferma il paracadute per quello che riguarda l'emergenza idrica in provincia di Arezzo. È infatti scongiurata per il momento l'ipotesi razionamento, ma ovviamente la situazione è sempre sotto controllo. A oggi, che è anche un periodo di siccità, quindi un periodo in cui molti soffrono questa cosa, grazie alla diga di Montedoglio per l'agricoltura stanno innaffiando, quindi la utilizzano anche più degli anni scorsi. Mentre per quanto riguarda la parte potabile, noi siamo negli grossi centri a posto, quindi non facciamo nessun intervento con le autobotti. Abbiamo qualche piccolo intervento con le autobotti nelle piccole frazioni, in piccoli pozzi, che non abbiamo fatto un investimento perché il rapporto è un problema solo nell'estivo, perché aumentano magari i turisti o così. Quindi pochissimo disagio, i cittadini non se ne sono neanche accorti perché una o due botti alla settimana portiamo, ma giusto in due posti.